Come ultimo argomento per questa volta vediamo il foro di Augusto, il secondo in ordine di tempo dei fori imperiali. La costruzione della piazza e del tempio al suo interno, che è il tempio di Marte Ultore, cioè Vendicatore, fu decisa da un voto fatto da Augusto prima della battaglia di Filippi del 42 a.C., in cui furono sconfitti i cesaricidi Bruto e Cassio, quindi Marte Ultore poiché appunto si era fatta vendetta sugli uccisori di Cesare. Il terreno necessario fu acquistato da privati, come accadde per il foro di Cesare, e Svetonio inoltre ci dice che Augusto avrebbe voluto un terreno più grande, ma non volle ricorrere alle maniere forti per espropriare alcuni proprietari che non volevano vendere, perciò si accontentò. I lavori durarono molto e l'inaugurazione si ebbe solo nel 2 a.C., 40 anni dopo. Il foro fu innanzitutto un centro rappresentativo, che doveva glorificare la figura di Augusto, soprattutto per le sue funzioni militari e trionfali, e poi servì anche come spazio per i processi e le trattazioni commerciali. L'aspetto della guerra e del trionfo però caratterizzarono molto questo foro, infatti qui si cominciò a riunire il Senato per decidere delle dichiarazioni di guerra e per sancire la pace. Prima di partire per le province i governatori celebravano un sacrificio sull'altare del tempio, e inoltre qui venivano erette le statue dei generali vincitori, che però in età imperiale non ebbero più diritto di celebrare il trionfo, diritto che fu riservato al solo imperatore. E il foro stesso è la più chiara illustrazione di questo monopolio trionfale. L'ingresso attuale si trova nella parte posteriore del foro, sulla piazza del Grillo. La piazza era fiancheggiata da due portici colonnati, nei quali si aprivano simmetricamente due grandi esedre. Queste grandi esedre costituiscono una novità che fu più tardi imitata nel foro di Traiano. Lungo i muri di fondo dei due portici e delle esedre, vi erano delle semicolonne in cipollino che inquadravano delle nicchie in cui c'erano delle statue di marmo, delle quali sono stati rinvenuti dei frammenti. Altre statue, in bronzo dorato, erano forse poste fra gli intercolumni del portico. Ogni statua era corredata da due iscrizioni, una sulla base che indicava solamente il nome del personaggio raffigurato e le cariche ricoperte, e l'altra posta su una lastra di marmo al di sotto della nicchia che ricordava brevemente le imprese del personaggio. La cosa più interessante però è che nelle due nicchie centrali delle esedre, nicchie che erano il doppio più grandi delle altre, erano sistemate da una parte la statua di Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio, e dall'altra la statua di Romolo che trasportava in trionfo le spoglie di Acrone, re dei Ceninenzi, da lui vinto e ucciso. Inoltre, sul lato di Enea, a sinistra del tempio, c'erano le statue degli antenati della Giansi Iulia, poiché, come abbiamo già detto, si facevano discendere dal figlio di Enea, Ascanio detto anche Iulo. Seguivano poi i re di Alba Longa, città fondata da Iulo. Sul lato di Romolo invece c'erano i più grandi personaggi della Repubblica. In questa contrapposizione c'era un chiaro significato, infatti, al contrario di quanto avveniva nel Foro di Cesare, dove la cosa importante era l'affermazione del potere monarchico attraverso la divinizazione del dittatore, qui la storia repubblicana viene recuperata e allo stesso tempo identificata con la storia della Giansi Iulia, e quindi il tutto è un disegno coerente con la propaganda gustea, tesa ad un compromesso tra tradizione e innovazione. Inoltre, Romolo discende da Enea e i loro genitori divini, cioè Marte per Romolo e Venere per Enea, sono riuniti nel culto del Tempio di Marte Ultore. Al centro del foro, poi, nella parte non scavata, perché infatti la parte anteriore della piazza interrata sotto la via dei fori imperiali, si trovava la statua di Augusto sul carro trionfale, posta enfaticamente sull'asse del Tempio. Un'altra colossale statua di Augusto, alta circa 14 metri, fu posta forse dall'imperatore Claudio, in fondo al portico di sinistra in una grande sala quadrata, che fu riccamente decorata anche con quadri raffiguranti Alessandro Magno, il cui ritratto fu più tardi sostituito con quello di Augusto, sempre da parte di Claudio, per esaltare la gloria militare del primo imperatore. Nella zona tra il podio del Tempio e il portico nord, l'imperatore Tiberio, che succedette poi effettivamente ad Augusto e in una delle prossime elezioni vedremo perché, fece costruire un arco dedicato a Druso Minore, che era suo figlio, e di cui sono stati trovati i frammenti dell'iscrizione. Sull'altro lato del Tempio, simmetricamente, venne eretto l'arco dedicato a Germanico, che era nipote di Tiberio, figlio di suo fratello. Successivamente fu l'imperatore Adriano a realizzare alcuni piccoli restauri al foro. Vediamo ora il Tempio di Martultore, che occupa una posizione simile a quella del Tempio di Venere genitrice nel foro di Cesare. Ha una scalinata centrale, realizzata in opera cementizia, ed il podio, realizzato invece in opera quadrata di Tufo della Niene, era rivestito dall'astre di marmo di Carrara. Al centro della scalinata c'era l'altare, mentre alle estremità c'erano due fontane. La cella si concludeva con un abside, in cui erano poste le statue di culto, che probabilmente erano ben tre, quella di Marte, quella di Venere e quella del Divo Giulio. Anche in questo Tempio si riunì più volte il Senato. Tra l'altro sappiamo che le insegne perdute da Crasso a Carre e recuperate da Augusto, furono conservate in questo Tempio nel penetrale, una sorta di Sancta Sanctorum, probabilmente identificabile con la stessa abside. Sia sulla facciata che sui lati lunghi il Tempio aveva otto colonne. Di queste ne rimangono in piedi solo tre, più la parasta di fondo. La parasta sarebbe un elemento architettonico generalmente piatto, parzialmente sporgente da una parete che ha la funzione di pilastro portante. Ecco un ingrandimento. Questa è la parasta. E queste sono le tre gigantesche colonne, superstiti, che sono corinzie in marmo di Carrara. Sono alte 17,70 metri. Siamo giunti alla fine di questa lunga lezione e spero di non avervi annoiato perché questa è stata solo la prima parte dell'età gustea. Continueremo a parlare di Augusto nella prossima puntata. A presto!